Avevano nascosto due jammer, ovvero disturbatori di frequenza, uno nella manica del maione e l'altro addirittura negli slip, ma prima di colpire si sono imbattuti negli agenti della polizia stradale di Arezzo che li hanno scoperti e denunciati. A finire nei guai due uomini che nei giorni del ponte dell'Immacolata stavano percorrendo il tratto aretino della 1. Erano da poco passate le 13 dello scorso venerdì quando gli agenti hanno fermato l'auto con a bordo i due per un controllo. Dalla perquisizione sono così saltati fuori due jammer, strumenti grazie ai quali ingannavano i proprietari delle vetture che credevano di aver chiuso le serrature, ma in realtà erano rimaste aperte in balia dei malintenzionati. Gli strumenti sono stati sequestrati e i due denunciati. Nel giorno dell'Immacolata poi gli agenti hanno arrestato un cittadino originario dell'Est Europa perché in possesso di una carta d'identità valida per l'espatrio falsa. A finire in manette, due giorni dopo, un cittadino sudamericano che ha esibito agli agenti un passaporto falso, denunciato anche un connazionale perché è risultato contravventore alla normativa in materia di ingresso sul territorio nazionale.